Grave lutto per Vanessa Incontrada, le commoventi parole Vanessa Incontrada sta affrontando un periodo di grande dolore per la perdita di un caro amico, Gonippo Bramerini, scomparso improvvisamente a causa di un malore all'età di 48 anni. La showgirl ha condiviso la sua tristezza con i follower sui social media, pubblicando una foto con l'amico e accompagnandola con parole commoventi. Sei e sarai sempre nel mio cuore amico mio grande. Riposa in pace. Ti voglio un ben infinito. Gonippo Bramerini era ben conosciuto nella sua comunità non solo per il suo lavoro di autista di autolinee, ma anche come cogestore, insieme alla moglie Sabina Romagnoli e ad altri, di The Wish, un popolare pub di Monte Amiata. Questo luogo è diventato un punto di riferimento per la zona, noto per le sue eccellenti birre e la musica di qualità. Bramerini lascia non solo la moglie e la famiglia, ma un'intera comunità che lo piange, inclusi amici stretti e colleghi. Tra questi c'è anche il cantautore Simone Cristicchi, che ha un legame speciale con la miata e che ha partecipato a numerosi eventi organizzati da Gonippo. La notizia della sua scomparsa ha profondamente colpito Cristicchi, il quale, come raccontato da Ugo Quattrini, ex ristoratore e amico di entrambi, è rimasto devastato dalla perdita. In questi momenti di lutto, il supporto della comunità si fa sentire, sia attraverso i messaggi di cordoglio che si moltiplicano sui social sia nel sostegno più personale e diretto. Il ricordo di Gonippo Bramerini rimarrà vivo nei cuori di coloro che lo hanno conosciuto e amato, come testimoniato dalle parole di Vanessa Incontrada e dall'emozione di Simone Cristicchi. Cosa ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti. Grazie! Grazie!